che ci sono dei bambini o delle bambine che percepiscono il proprio genere sin da quando sono bambini, che è diverso dal loro sesso biologico. Ecco che allora bisogna aiutare questi bambini, e i genitori oggi sono molto più sensibili fortunatamente in questo, in un loro percorso di transizione perché si ritrovano con un genere che non corrisponde al loro sesso di nascita. La dignità di genere è riconosciuta dallo Stato, cioè esiste già. Esatto, è un diritto umano.